buon pomeriggio amici di acimian inside rieccoci con un nuovo video dove andremo a parlare del campionato femminile infatti oggi alle 18 il il milan di davide corti è chiamato a una partita difficile sul campo del sassuolo potrebbe potremmo anche dirla l'ultima chance per quanto riguarda l'accesso o la provare a raggiungere la pool scudetto a fine campionato il milan è distante cinque punti dal quinto posto occupato proprio dalla squadra nero verde quindi la partita di oggi come si ben capisce è fondamentale per per il milan femminile sbagliare oggi vorrebbe dire giocarsi la pool salvezza e quindi fallimento praticamente in campionato per quanto riguarda la stagione stagione altalenante in campionato le rossone erano perso tantissimi punti si ritrovano in questa zona di classifica inaspettata perché le le premesse a inizio stagione erano totalmente diverse non non quelle di vincere il campionato perché la roma sta facendo una stagione a sé ma meno quella di partecipare alla pool scudetto questo difficilmente potrebbe venire se oggi sul campo delle nero verdi al sassuolo non arrivano i tre punti perché già sono cinque punti di stacco poi mancherebbero solamente due partite alla fine della regolar season e quindi l'impresa sarebbe molto ardua in coppa italia in settimana il milan femminile eliminato proprio il sassuolo con un doppio tra zero andata e ritorno in semifinale ci sarà una partita molto ma molto difficile per le rossonele perché si troveranno di fronte la fortissima roma servirà l'impresa per accedere alla finale quindi tutto ora passa dalla partita di oggi per quanto riguarda la coppa italia se ne riparerà più avanti ma oggi servono assolutamente i tre punti in casa del sassuolo per continuare a sperare in questa pool scudetto quindi a ripare a fine stagione a lottare almeno per un posto per andare in champions league anche se è molto ma molto ma molto difficile quindi alle ore 18 sassuolo milan femminile campionato femminile